Cristina Bauer, parte la Champions League, quali sono secondo te le speranze delle italiane e le speranze poi in particolare di Piacenza? Sì, partiamo giovedì adesso contro Mosca, noi vogliamo fare molto bene in Champions, abbiamo comunque un girono con una squadra molto forte che è Mosca, poi altre due squadre che sono da scoprire, c'è una squadra francese, ci tengo anche perché c'è mia sorella che gioca lì, iniziamo secondo me con la partita più difficile perché incontriamo Mosca, però anche noi vogliamo fare molto bene e arrivare più lontano possibile in questa Champions. Un calendario che vi obbliga a scendere in campo due volte a settimana, questo potrebbe essere un problema anche per l'Europa? Sì, noi dobbiamo, fino a Natale abbiamo tante partite, quindi dovremmo spingere tanto anche su queste partite, non sarà per niente facile, però c'è anche la motivazione di giocare tutte queste partite perché alla fine è una competizione molto bella la Champions, quindi noi con tanta voglia vogliamo iniziare molto bene da giovedì contro Mosca.